Con l'obiettivo ambizioso di contribuire al cambiamento del sistema moda verso modelli di business più sostenibili ed etici, nel 2019 abbiamo fondato CY. CY è una start-up innovativa, una società benefit ed una B-Corp certificata con il punteggio più alto in Italia per un'azienda del settore tessile. Al settore moda sono attribuite molteplici responsabilità, tra le quali il 4% del consumo idrico globale, il 10% delle emissioni di CO2, l'85% degli indumenti tessili a fine del loro ciclo di vita terminano in discarica, vengono quindi inceneriti. Con l'obiettivo di contribuire al cambiamento dello status quo del sistema moda, in CY produciamo collezioni di abbigliamento e di beachwear utilizzando solo materiali riciclati e riciclabili organici certificati. Utilizziamo una supply chain locale in grado di assicurare che il 95% della produzione sia made in Italy. Abbiamo adottato un packaging organico e compostabile certificato TUV Austria. Grazie al nostro sistema di distribuzione completamente commessato, la nostra logistica a valle è a CO2 neutral. Abbiamo ingenerizzato un sistema di tracciamento degli indumenti non più utilizzati dai nostri clienti che abbiamo battezzato Modello R3, un sistema unico di tracciamento e gestione del rifiuto tessile. Per rendere il nostro modello di business trasparente, ogni nostro capo è dotato di un digital product passport, un vero e proprio passaporto digitale in grado di dialogare con il cliente finale. Il nostro team interno si occupa di disegnare, coordinare lo sviluppo e distribuire le nostre collezioni. Un gruppo formato da professionisti dotati di una profonda conoscenza del settore fashion, in cui la maggior parte dei componenti ha già avuto l'occasione di lavorare assieme in precedenti esperienze professionali. In compagni di societaria possiamo vantare la presenza del gruppo Opfinim, capogruppo di Sportler e Sport Alliance. Grazie a tali sinergie distributive possiamo vantare un fatturato in rapida crescita. Partecipa e contribuisce al cambiamento dello status quo nel settore moda, diventando azionista di un brand e di un progetto di innovazione ambientale e tecnologica.